Come ti senti e come ti senti? Penso che la squadra è felice per questo match. Siamo felice per poter giocare di nuovo. Dopo la Super Cup, tutti si sono felice per la perdita. Siamo una squadra diversa, sono una squadra diversa. Quindi sicuramente sarà una testa dei migliori squadri in Italia. E dopo questa lunga giornata in Orenburg e tornando a tornare fisicamente? Come ti senti? Fisicamente penso che la squadra è un pochino. La gente non capisce la difficoltà nel viaggio. E poi aggiungere la perdita. E' un'altra cosa difficile per noi. Ma venivamo e abbiamo lavorato molto in pratica. E credo che siamo migliori. E proviamo a migliorare per il gioco. San San Diego sarà il terzo grande gioco in questo inizio della season. Dopo Valencia, Orenburg e ora Taranto. Dopo la Super Cup, dovrebbe essere il turno della season? Siamo arrivati a quel punto dove ogni gioco è importante per noi. Abbiamo perduto i giocatori in Euroleague. Abbiamo giocato molto bene nella Liga italiana. Quindi sicuramente proviamo a provare qualcosa per noi, a provare qualcosa per i nostri. 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 A provare qualcosa per i nostri.